Idea Web con Darko Damianovic, allenatore Trevalli. Appena finito un allenamento, alcuni giorni che la tua squadra si sta preparando per il prossimo campionato. Prima domanda, come sta andando? Sono già dieci giorni che lavoriamo, è un gruppo di ragazzi molto preparati tecnicamente, ci stiamo conoscendo, comunque arrivano tutti da... è un'esperienza nuova anche per me, è un progetto internazionale, diciamo, sta andando bene. Infatti è la prima fase della preparazione, siamo partiti un po' prima, giusto per il fatto di conoscerci meglio. Per adesso va bene, stanno arrivando sempre, mancano ancora 3-4 giocatori, ma comunque abbiamo già cominciato a lavorare, quindi adesso ci vuole un po' di tempo e pazienza per mettere tutto a posto, diciamo. Dal tuo punto di vista, dal punto di vista personale, com'è lavorare con un gruppo di giocatori solamente brasiliani? Per me è una cosa nuova, una sfida nuova, però comunque è vero, c'è un po' di distacco, c'è un po' di problema della lingua, ma comunque ne parlo tante lingue, con inglese, con italiano, un po' ci aggiustiamo e cerchiamo di capirci sul campo, perché poi è la cosa più importante. Penso che quest'anno riusciremo a far bene. Sì, parli di fare bene, di un campionato di prima categoria che comunque mai, forse come quest'anno, sarà difficile. Tante squadre che stanno preparando delle rose molto competitive. Sì, infatti sono due anni che ero all'estero, ma ho seguito. Quest'anno comunque ho visto che le squadre saranno, magari parlando con gli altri mister, gli amici, magari il campionato più competitivo negli ultimi 10-15 anni, come dicono tutti. Questa è una squadra forte, però ci vuole il tempo, perché questi ragazzi arrivano ad un'altra mentalità e ci vuole un po' di tempo. Ecco, io sono fiducioso e penso che riusciremo a far bene. Grazie mille mister. Grazie a te.